Cosa che i bambini adorano è scrivere alla lavagna, ma a scuola non sempre possiamo farglielo fare. Allora ho pensato che potreste preparare una specie di calendario che potete naturalmente adattare alle esigenze, se conoscono i giorni della settimana, se sanno scrivere, eccetera. Pensiamolo adesso proprio per i più piccolini, quelli che iniziano proprio la scuola quest'anno magari. Un piccolo calendario in cui loro possono scrivere alla lavagna. Adesso io qui ho disegnato la scuola, disegnate quello che credete, quello che per i bimbi rappresenta, magari una scuola che somiglia a quella loro dove andranno, eccetera. E poi preparate questi cerchietti che rappresentano i giorni. E quindi loro possono poi colorare giorno per giorno e vedono il tempo che passa e quanto manca. E questo potete farlo per qualunque cosa. Guardare i giorni che mancano al compleanno, i giorni che mancano a Natale, i giorni che mancano per andare a trovare i nonni, un viaggio. Veramente quello che può essere importante per loro per riuscire ad avere un'idea del tempo che passa. Perché per loro è abbastanza difficile collocare i giorni, il tempo e quanto magari saranno lontani da qualcuno. E quindi questo può essere un modo. Naturalmente i bimbi possono disegnare da soli la scuola, ma potete usare questo sistema anche per scrivere o disegnare le cose che magari i bimbi devono fare al mattino, prima di andare a scuola. Quindi lavarsi il viso, fare colazione, vestirsi, tutto quello che è importante fare prima di andare a scuola. E così loro vedono dove sono. Noi abbiamo a scuola, adesso magari nei prossimi giorni faccio una foto e ve lo faccio vedere, delle immagini con quello che succede. Quindi c'è il momento del racconto, c'è il momento in cui si lavora, c'è il momento in cui si sta in cerchio. E loro chiedono dove siamo adesso, perché si devono orientare proprio, non sempre è immediata questa cosa. E quindi ecco può essere anche quello un modo per aiutarli a prepararsi, aiutare a capire in quale momento si trovano e qual è la prossima cosa che succederà. Un'altra cosa ancora che potete fare per preparare i bambini, soprattutto se magari conoscono già un pochettino i compagni, così è quello di incontrarsi, provare ad avere dei contatti. Alla scuola steineriana, non so se lo facciano anche in altre scuole, spero di sì, la maestra, quando è nuova, va a trovare i bimbi a casa, uno per uno. Quindi è un bene sia per la maestra, perché vede il bambino dove abita, magari vede la sua camera, la possibilità di conoscerlo, e di dedicargli del tempo personalizzato. Ma è anche importante per i bambini, perché sanno chi sarà questa persona, iniziano a costruire un rapporto di fiducia con lei. Quindi se è possibile fare questa cosa, è molto bello e molto utile incontrare la maestra. Se non è possibile, potete organizzarvi magari con gli altri genitori, con le altre famiglie e fare incontrare i bambini prima dell'inizio della scuola.